Freaks 2 è un evento, un evento mondiale. Alcune bambine si sono sparate, alcune invece si sono strappate letteralmente i peli della fica, ma tutti hanno iniziato ad avere i capezzoli turcidi per questa notizia. Ho deciso, per chi non capisse bene la trama della seconda stagione, perché si è perso la prima, ci sono qua io, a spiegarvela dettagliatamente, dandovi anche qualche opinione personale, come ormai ho imparato a fare. Innanzitutto diciamo che Freaks è una web series, come quelle americane, assolutamente non si è ispirata a Misfits, assolutamente non si è ispirata a Heroes, ma ci mancherebbe altro, le male linghe che dicono questa cosa devono andare a bruciare all'inferno. Freaks si è ispirata ai dei telefilm degli anni 90, come La Tata, i Willy e i Principi di Belè, soprattutto vediamo molte citazioni di Willy e i Principi di Belè, e ovviamente ci sono anche dei riferimenti ai film, i primi film del dopoguerra italiani. Parliamo un po' della storia, perché stranamente della gente non ci ha capito un calzo, ma come? Come fai a non capire qualcosa? Cioè Freaks è lampante, è lineare, un po' come, non lo so, un pene. Allora, vediamo come parte la storia. Ci sono cinque ragazzi che vanno in discoteca, una cosa particolarissima, dite voi, e infatti è particolare. Ci sono varie storie, diciamo, intrecciate, Cioè uno chiede un pompino a una, uno si accoppia con un cartello, la Genolini sta con un barbapapà, poi c'è un ragazzo che tromba, che è Guglielmo. Tromba, stranamente, tromba, 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 tutto foo. E c'è questa ragazza che è un po' delusa della sua prestazione, perché stranamente Guglielmo ha una sleppa o sì, però in questo Freaks, forse c'è il pipino e dura poco. La cosa che mi ha colpito subito di questa parte, possiamo dire, è l'interpretazione di Guglielmo, perché Guglielmo non tromba così. Ho avuto modo di conoscerlo nell'intimo, e Guglielmo tromba com'è nella vita, però Guglielmo è una persona metodica, quindi se tromba ci mette la serietà, fa firmare dei moduli, si fa un bidet completo con peracalda, e poi parte, parte all'attacco. Ma parte così, è un cinghiale delle antille, ma che comunque sia rimane molto, molto serio, e anche la sua parte dice, io cazzo sto trombando con Guglielmo Scilla, giustamente, devo essere molto serio. Quindi qui invece si fa, oh, sudori, boccoli che vanno dappertutto. Guglielmo, bravo per la tua prestazione, non solo attoriale. Perché poi, ovviamente, ha schizzato. Allora, poi, succede un evento strano, diciamo che i destini, i destini di questi cinque ragazzi si intrecciano per un incidente stradale, perché la Ginolini sta per toccare l'interno coscia del suo barbapapà, e il barbapapà perde il controllo, perché non vede più nulla. Anche la dota attoriale di quei ragazzi è, non ci vedo, mamma mia, non ci vedo, dove andrò, dove andrò, incidente. E poi questi ragazzi hanno un attacco di colite e svengono per terra. Si risvegliano con Lois Griffin, in una tavola imbandita, stile ottocentesco. Silvio, che sarebbe Claudio Biagio, ovviamente fa il cretino, con battutacce, prese, penso, dalla saga del porchettario, e la Ginolini si mette dei vestiti al di poco inguardabili, Guglielmo c'ha la zazzera che ne tappa la visuale, quindi per far vedere cosa dice gli hanno messo un fumetto accanto, e Peggioli si strafoga di dorci. E Lois Griffin gli dice, ma vi levate di uno e tutti si lavano di culo. Quando si lavano di culo, non sono nemmeno stupiti, sono passati due anni, ma non sono stupiti, perché in cinque minuti sono consci di quello che è successo. Oh, cazzo, si è preso superpoteri, siamo supereroi, sono passati due anni, oh, sti cazzi, andiamo. Ed è molto realistica questa cosa, temporale di due anni e ho preso dei superpoteri, la prima cosa che faccio è fare battute alla Sagra del Fagiolo. La trama inizia a farsi molto più fitta, è piena di colpi di scena. L'unica e due scene memorabili sono il suicidio continuo di Peggioli, mentre Guglielmo si masturba accanto a lui. Se una persona come Guglielmo Scilla si masturba accanto a me, l'unica cosa che posso fare è buttarmi giù da un grattacielo. Per le dimensioni, forse, per lo schizzo, c'è la probabilità. Si masturba perché ha il superpotere di masturbarsi, che è una cosa molto rara. al giorno d'oggi. Infatti si scopre, piano piano, durante la storia, che i nostri amici, i nostri fantastici protagonisti, hanno tutti dei poteri favolosi che andiamo a scoprire. Silvio, per ora, abbiamo capito che è fortunato e che gli piace andare a giro per Roma con uno scolapasta in testa, una maglietta inguardabile, mentre lotta con un bastone e una campana. La Genolini fa quella gragnocca dell'accea tutti, ovvero lei ha un superpotere che è acceare la gente, ma nei momenti meno opportuni. È memorabile la scena quando la mitica Claudia va dal suo ex ragazzo, che ormai ha accecato. Notiamo la prova attoriale della Genolini, che in tutta la serie ha un'unica espressione. Questa. sono triste, ma c'è la gente. Come fa? È pericoloso, mi dovrò mettere dei guanti, magari di lana, però l'estate mi fa andare a armare un piglio il sole sulle mani. È memorabile l'incontro fra l'ex ragazzo e i genolini, dove l'ex ragazzo viene portato via con un carrello da Matteo Bruno, che è, diciamo, il macchinista, va dal barba papà e gli fa Oh, ma io ti ho accecato, scusa, un volevo, mi perdonerai mai? E lui rimane, si impettisce un po' così come mangia fa un pinocchio e gli fa Vieni, questa casa, te, non devi più tornare. Peggioli c'ha il potere di manifestare le proprie emozioni con gli altri. Cioè, se lui piange, piangono anche quell'altro. Mi chiedo se lui, praticamente, un giorno va in ascensione e gli scappa la popò, cosa potrebbe succedere? Non lo voglio sapere. Poi abbiamo Gianmarco Speziale, che è il cantante degli About Wayne, che ha fatto la colonna sonora di Fricks e ha recitato una piccola parte. Poi, come ultimo personaggio, abbiamo la vampiressa Bona, che, come ultimo, come consiglio che gli potrei dare, è non succhiare solo il sangue. Bene, a parte questo, abbiamo Dopo questa scena memorabile del grattaccello, Fricks diventa addirittura tutorial, perché c'è un tutorial su come dissotterrare un cadavere, che è una cosa fantastica, perché chiunque può sotterrare o dissotterrare un cadavere lo può carpire grazie ad Andrea Baglio e quella gran topa della vampira di Fricks. Poi, dopo questo, il nulla, io non ci ho capito più un cazzo, se ci avete capito qualcosa voi, contattatemi a per me il fricks è questo, cinque cretini che hanno dei poteri, dei superpoteri del cazzo, che mangiano a sbafo e dissotterrano cadavere. Diciamo che la colonna sonora è molto varia, con tracce evolute, e, diciamo che non è, non è molto usato il tema principale di Fricks, cioè non viene messo quasi da nessuna parte, per qualsiasi scena c'è, ragazzi, anche se c'è Silvio che c'è, c'è una scena, si scaccola, non è mai sfruttata, infatti, vabbè, fa cavia, basta, non c'è più voglia. Abbiamo terminato la nostra, la nostra, diciamo, arringa sul Fricks, ecco, l'ultima cosa, Matteo Bruno ha realizzato una cosa proverbiale, mi è piaciuto molto il movimento di camera che dà quando fa i primi piani che all'incirca è questo. Ragazzi, c'è un problema, abbiamo dei superpoteri. Questo mi è piaciuto molto come cosa, perché dà comunque una nota alla Sundance. Siamo in un pub, sa si fa, si ordina la cosa, ci fanno delle patatine strabone. Io ho finito, è stata una recensione bella, e adesso una cosa che mi hanno chiesto in molti, ovvero la dimensione dei piani degli attori. Partiamo con lo di Biagio che si va in ordine crescente, quindi... questa è la dimensione di Carlo di Biagio ed è leggermente peloso. Guglielmo Scioli. Diciamo che Guglielmo Scioli ha un piccolo scrotino, ma... facciamo che ce l'ha a campanula, ecco, importante. Ok. Che un pochino... La cenolini, eh, la cenolini ce l'ha normale. Però c'ha fungo. No, Matteo Bruno è così. Facciamo. Speziale. Cioè, delle palle decise. Questo è speziale. E poi, ovviamente, Peggiore. Questo è il pene di Peggiore. E invece, questo è il pene mio quando vedo la Vampiresse. Ovviamente lo faccio in scala 1 a 6.000 Importante la scala. E poi, ovviamente, non entra, quindi inseriamo il simbolo dell'infinito. Perfetto. E la recensione è finita, non ho altro da dirvi. È stato un piacere. Ciao da Dario Moccia e da Claudio ti piace.